Il tasse serve Scusate, visto che siamo in democrazia vorrei fare anche io un intervento Sono appena tornato dall'Irlanda del Nord Che è Europa No, è Irlanda Irlanda del Nord? Cioè, no, è Inghilterra Sommai il Regno Unito, che è comunque Europa Che roba è il Regno Unito Mi sa che non ci stiamo capendo Vai, vieni un attimo Allora, dunque, come stavo dicendo Sono appena tornato dall'Irlanda del Nord Che è Regno Unito, Unione Europea Mica per molto ancora Quelli lì hanno votato la Brexit Se ne vanno dall'Unione Europea Mica sono scemi come tutti noi